Mi sta capitando sempre più spesso di questi tempi duri che stiamo vivendo già da parecchio tempo di pensare a un discorso che ho avuto con mio padre tanti e tanti anni fa ed è questo, avevo appena firmato un contratto milionario per fare della pubblicità possiamo anche dire la marca e l'azienda, tanto siamo in camera caritate se nessuno ci ascolta ed era per la pasta barilla, mi davano tanti soldi, ma tanti, tanti milioni roba da far tremare i polsi a un ragazzino dell'epoca come me e firmo questo contratto e corro a casa con il cuore gonfio di felicità per comunicarlo appunto a mio padre arrivo lì, busso la porta, lì mi apre e faccio papà, papà, ho firmato un contratto milionario per fare la pubblicità della barilla papà ci danno un sacco di sorte e lui, voglio, mi raccomando a papà però, fatta dare poche pasta